In Regione c'è una nuova sfida che io raccolgo, ma lo dico in modo molto netto, quello che farò lunedì sarà un saluto di arrivederci con il Comune di Trieste. E un arrivederci comunque perché sono sempre, sarò sempre vicino, poi quattro anni passano presto, ahimè! Ma chissà cosa succederà poi nella prossima era politica, di piazza altri mandati non ne può fare. Di piazza a meno che cambi una legge regionale, il terzo mandato eccetera eccetera. Così Michele Lobianco nella sua ultima intervista da assessore comunale agli affari generali, delega che andrà il collega di partito Michele Babuder. Il forzista lunedì si accommiaterà dal Consiglio Comunale per poi passare al parlamentino di piazza Oberdan. L'arrivederci dell'Azzurro che ha iniziato a far politica 15 anni ed eletto a Trieste sin dai tempi di Riccardo Illi è un chiaro rimando a un'ipotesi al momento prematura, ma del resto la politica è il tempio del possibile, di un suo futuro da candidato sindaco per il centrodestra nell'era post di piazza. Chissà, quindi appuntamento costante ogni giorno perché noi, ecco uno delle chiavi del mio successo è che io sono sempre vicino ai miei cittadini ogni giorno, non è che continuerò a esserlo e poi l'appuntamento ovviamente il prossimo sarà tra quattro anni. Quanto al rimpasto in giunta comunale, l'altro big da sostituire è Carlo Grilli, assessore alle politiche sociali, eletto con la civica del primo cittadino e ora in regione con la lista Fedriga. Nel pomeriggio il sindaco ha incontrato i suoi consiglieri eletti, il presidente del consiglio comunale Francesco Panteca, il capogruppo Roberto Cason, Massimo Codarin, Vincenzo Rescigno e Massimo Tognoli. Verificate le disponibilità dei singoli, in testa rimane Massimo Codarin, il più votato tra quelli in Lizza a livello di preferenze. Per martedì prossimo alle 17.30 è prevista la riunione definitiva del sindaco con il suo staff, quindi sarà comunicata la decisione.